Doveva essere un'isola ecologica e consentire ai cittadini di Serra San Bruno di beneficiare del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Realizzata nel 2007, nel giro di pochi anni è diventata una discarica a cielo aperto dove vengono sversati rifiuti di ogni tipo. La struttura che si estende lungo la strada per Mongiana è già stata sequestrata nel 2014. Ieri i componenti del movimento La Serra Rinasce hanno organizzato un sit-in davanti al centro di stoccaggio dei rifiuti. Noi è da cinque anni che critichiamo anche duramente come l'amministrazione guidata da Salerno e dal sindaco Rosi hanno portato avanti quella che è stata la gestione dei rifiuti. E noi siamo qui per chiedere la bonifica dell'aria, se ci sono le condizioni di sequestro e abbiamo preso oggi, abbiamo assunto anche un impegno di fronte ai cittadini. L'impegno è quello di trovare un altro sito idoneo a trasformarlo ad isola ecologica. Il sito di raccolta dei rifiuti fu concepito durante l'amministrazione Loiacono nei progetti dell'ex sindaco. Doveva essere un'isola ecologica all'avanguardia, ma le cose sono andate diversamente. Io ho immaginato quest'isola ecologica perché un comune che intende fare la differenziata non può non dotarsi di un'isola ecologica. Ed è chiaro che un paese civile deve fare la raccolta differenziata. E purtroppo non avrei mai immaginato che amministratori responsabili potessero gestire in malo modo un'isola ecologica di questo tipo, un modello di isola ecologica. Loredana Colloca per la C News 24.